Non per fare la suocera, ma cosa ci prepari di secondo? Carne Simmental Carne Simmental? Certo, è buona carne magra nella sua gelatina, ma gelatina speciale, di brodo ristretto Con le verdure vedrai che secondo appetitoso Però... Carne Simmental Ti piace, eh? È davvero un buon secondo, cosa ti avevo detto? È carne magra nella sua gelatina, di brodo ristretto Carne Simmental, carne magra nella sua gelatina, di brodo ristretto